Ciao amici di Fisi Mas, per il giorno di oggi un bellissimo allenamento, per il giorno di oggi è portato questa pala medica, con questa pala medica si può fare esercizio per rehabilitare, per tonificare, per guadagnare forza, per guadagnare un pochino di stabilità, si possono fare tantissimi esercizio, però il giorno di oggi è portato sei esercizio per reforzare nostro corpo, adesso che si viene dopo la vacanza, che meglio di tornare piano 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 piano, di meno in più, questa pala pesa 8 kg, tu prende la pala che tu vuoi, può essere 18 kg, 4 kg, 6 kg, tutto dipende la tua capacità fisica, per il giorno di oggi abbiamo bisogno che un tapettino e che non manche la hidratazione, se tu ancora non ti sei inscrito con questo canale, iscrivete adesso, da pablo, voy a fare 6 ejercici, 6 ejercici, voy a mettere sempre mi timer, che mi piace, voy a impostare il timer per 40 secondi di lavoro, di esforzo, con 20 secondi di recupero, io lo voy a, lo voy a repetire 3 volte, tu lo puoi fare, tu puoi fare lo 6 ejercici, puoi fare una pausa di un minuto, dopo lo repite nuovamente, dopo fare la pausa, però io oggi, oggi lo voy a fare, pa, 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 bomba, tutto di seguito, di seguito, di seguito faccio lo 6, automaticamente viene la pausa di 20 e continuo, nuovamente, tutto dipende la tua condizione fisica, vamos a iniciare con un pochino di movimento, nostro corpo, vamos a enviarle una informazione a nostro corpo che, 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 vamos a fare una attività fisica così non facciamo male, prima di tordare dopo la vacanza, hai che tordare progresivamente, le ricordo, il movimento mai va in vacanza, anche in vacanza, io anche che ho fatto vacanza una settimana, in espiaggia, si può vedere il colore, no? e anche in espiaggia ho fatto un pochino di corsa, un po' di stretching e va bene così mi mantengo, così mi mantengo in forma, la gente dice, Paolo, tutto è natura, niente natura, tutto è lavoro, sacrificio, è volontà, passione, dedizione, tutto 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 ok, perfetto, giro, 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 circolo, 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 piego, piego, salgo, piego, salgo nuovamente piego, salgo ok, perfetto, perfetto, io credo che così va bene, così va bene un pochino, iniziare con, mettere il timer e iniziare il nostro exercice per reforzare il nostro corpo, la musculatura, gambe, braccio, l'abdomen tutto il corpo ok ok miro e miro e grazie a tutte le persone che si hanno inscrito a questo canale e a quelle che si vanno inscriviti in futuro ok preparate mi timer a la boccia di 3 e tu dopo aspetta le señali 3 2 1 sì le scie niente prego la paola prendo la paola tiro dentro ok vai paola rotة, ok, espl один lardo la chiena grande, esploma veloce, quali è facile Dio, esploma veloce ab bravo ok, ok, ok 3, 4, 5, 5, pierde lardo, esploma veloce Abra molto, altra belata! Sì, sì, sì! Ecolo! Tripposto un po' di glloe, glottine. Gambe, gambe, gambe! unch 것 explained? sta tirando un po' di aria. Ok, perfetto. Noi prossimo eserci criticism fare il fine. Flexione, 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 lascio la pala qua, lascio la pala qua di fronte, un po' di flexione, una flexione, una stretta una, 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 abro, 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 corta, 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 da, da, salgo, abro, 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 tra, corta, 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 o stretta, stretta, si, su, 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 abro, 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 perfecto, perfecto, se va, ok, yo cuesto lo repito 3 volti, tu a casa lo fai, 2, 3, 4, dependiendo tus condiciones fisica, ok, madre de dios, madre de dios, adesso, vamos a fare un po' de squat, squat, sumo, 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 en español, sentadilla, 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 va un po' de caldo, 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 ok, guardate qua, abro, grande va, grande, grande, uno, due, tre, fermo, 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 fermo li, dai, uno, due, tre, fermo, 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 dai, uno, due, tre, fermo, 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 si va, dai, uno, due, tre, fermo, 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 si va, dai, uno, due, tre, fermo, 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 si va, uno, due, tre, fermo, 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 si va, uno, due, tre, fermo, 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 si va, 1, 2, 3 perfecto, perfecto il prossimo esercizio, vamos a reforzare un pochino il bichipite e facciamo un pochino di spalle, spalle, spalle spalle, 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 in spagnolo, ombros, ombros shoulder si va, si va, si va contraigo mi addome, piego leggeramente il ginocchio, schiena di vita, spalle 1, 2, adesso, su, 1, 2, nuovamente, 2, 2 1, 2, si va, 1, 2, va, lentamente 1, 2, ok, il terzo va 1, 2, 3, nuevamente va, 1, 2, si va, 1, 2, 3, ok ok, perfecto, 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 pero vamos a reforzare, vamos a reforzare un pochino di addome addome, 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 addome con la pala ritmo que se me dañe el teléfono, con el caldo ok, salgo, salgo, ah, dietro, ah, salgo, si, ah, lentamente, 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 ah, salgo, ah, si, guardo un punto fiso così mi faccio, no mi faccio male al colo, viente dolor al colo debe sentir el addome, bu, 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 bu ok, ok, si va, si va forza, 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 forza tu riesce, mario, claudio, ah, eah, andrea, andrea Federico, Maria, Raffaella, Dute, Cristina andiamo a fare un pochino di barpis barpis, andiamo qua barpis, barpis, barpis ok andiamo, 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 andiamo 4 mountain climbers 1, 2, 3, 4, abro grande, salgo ok, nuovamente 4, 1, 2, 3, 4, abro, schiena direita salgo, schiena direita 4, 1, 2, 3, 4, salgo esciendo, esciendo, ta, nuovamente ta, 1, 2, 3, 4, ta ah, abbiamo finito nostro, abbiamo nostro primo, nostra prima serie iniziamo, iniziamo, iniziamo nuovamente tu puoi fare una pausa di un minuto para fermare il video dopo continuare io continuo esciendo, esciendo prendo la pala ta, butto butto, 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 butto ta, 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 ta butto, butto, butto questo dipende da tua condizione fisica a mi il sole mi espata ta, 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 ta come sto tornando la vacanza prendo un peso ligero ni troppo ligero ni troppo pesante eccolo eh si, 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 si si, si si, si ok perfecto piegamenti, piegamenti uno stretto uno delato uno stretto un altro delato tutto questo esforzo vendrà pagato te lo dico io te lo dico io te lo dico io si va, si va, si va si va estreto estreto lentamente sempre diritto uno salgo abro abro estreto estreto abro 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 ok judo 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 forza ah yo me canso io me stanco descansate dai chiuso 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 forza ah abro abro perfecto ha sigue squat 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 o sentadilla 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 abro grande abro grande lo volamos subo 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 abro grande guarda uno due tre fermo dai uno due tre si 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 dai uno due tre eccolo 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 si va uno due tres si si dai uno due tres me fermo me fermo dai se va uno due tre madre de dios ya la gamba me fue a cosi debo allenarme de piu vengo de la vacanza progresivamente progresivamente lo importante no fermarse no fermarse mai labora siempre a la tu capacita fisica bichipiti bichipiti se va guardate uno due tre vamos a fare tre uno due tre se va uno due tre uno due tre va uno due tre se va uno due tre se va se va uno due tre uno uno ok voy continua abdomen 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 baby abdomen 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 de chocolate abdomen de mazorca de tartaruga abrazo la pala abrazo la pala salgo puesto si salgo si va fuerza ok perfecto perfecto se la falle se la falle claudio mario daniele si federico si andrea vamos vamos pablo si guardo un punto fiso guardo un punto fiso si el colo esta perfecto pablo me fue mal el colo come mai estamos laburandose el abdomen no el colo si ok soy un gladiatore soy forte mi piace ok perfecto continuo el barbie dai 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 vamos vamos forza te la fai 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 4 4 4 1 2 3 4 avro salgo ok asiento ta dietro 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 dai 1 2 3 4 abro salgo salgo nuevamente più dinamico più dinamico più dinamico più dinamico 1 2 3 4 ta ok 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 resiste 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 1 2 3 uuuh vamos vamos ultimo esforzo ultimo esforzo prende la vitamina prende la vitamina las hidrataciones agua prende la pala prende la pala tiro si 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 nuevamente ta ecco lo es si 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 non è uno ti regala niente non è uno andiamo andiamo alla medalla almeno la medalla alla medalla di cartone affranca 2024 dai 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 si si prendo prendo esquerda dirita espala direzza guarda espala derecha madre di dio, piegamenti, piegamenti, flessioni, 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 questa mi fa morire, ah, signor, dame forza, non posso volare, è l'ultimo che mi manca, si va, si va, si va, faccio 2, 2, 1, 2, abro, faccio 2, 2, 2, 1, 2, nuevamente 2, 2, 2, 1, 2, abro abro abro, faccio 2, 2, 2, 1, 1, uno, due, vamo, 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 se va, se va, due, vamo, due, vamo, due, si, 60, 60, 60, escoviate, 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 aductor, tu no mola mai, tu no mola mai, sei forte, sei forte, tu lo fai desde casa, preparate, vamo grande, vamo, faccio 3, 3, 1, 2, 3, fermo, va 3, 1, 2, 3, fermo, 1, 2 3 si va 1 2 3 fermo 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 1 2 3 fermo fermo dai 1 2 3 nuovamente va 1 2 3 1 2 3 si va 1 vamo vamo andiamo braccio 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 1 2 3 se va 1 2 3 1 2 3 se va 1 2 3 su 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 1 2 3 leggeramente piegato il dinoquio 1 2 3 su 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 1 2 3 ok vamo a fare una modifica vamo a fare russian twist russian twist russian twist sempre addomen 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 dai 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 pala 1 2 1 2 e hm la toca 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 si toca 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 guardar labuto 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 si labuto labuto si, la butto si, la butto si, la butto la butto dai 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 ci siamo finiti andiamo per la medalla almeno medalla di bronzo dai barpis ok 4 4 4 1 2 3 4 abro salgo esciendo si va 1 2 3 4 salgo si esciendo si va 1 2 3 4 avanti nuovamente esciendo si va 1 2 3 4 salgo se lo abbiamo fatto se lo abbiamo fatto no te dimenticare di fare stretche se ancora non ti sei iscritto a questo canale iscrivete adesso di Core Pablo